La conferma di un trend triennale di crescita del volume e ordini e buoni risultati che si legano in particolare al consolidamento del mercato nazionale e alle cooperazioni in ambito europeo. Elt Group, impresa da oltre 70 anni attiva a livello mondiale nei sistemi di difesa elettronica, ha presentato i propri risultati per il 2023. Si conclude anche quest'anno un anno ricco di impegni per Elt Group che in linea col suo piano strategico Tenelt sta ingrandendo sia la internazionalizzazione di tutto il gruppo, quindi con nuovi presidi commerciali, con nuove società, nuovi accordi ma anche linee di prodotto che appunto non rimangono solo nell'ambito della difesa ma vanno nei domini limitrofi come quelli dello Cyber IW, Space IW ma anche della biodifesa. I dati parlano dell'aggiudicazione di otto progetti finanziati europei e di una crescita aziendale che si manifesta anche attraverso le imprese partecipate e controllate. Nel 2023 l'azienda, in partnership con Land Lease, ha dato vita alla new co E4Life che ha l'ambizione di far crescere tecnologicamente e portare con efficacia sul mercato la tecnologia E4Shields per l'inattivazione in aerosol dei virus respiratori. Da ricordare poi anche l'acquisizione di Solings Corporation e i nuovi investimenti per 50 milioni di anni in ricerca e sviluppo con particolare attenzione all'intelligenza artificiale. Un anno, come dicevo, molto intenso ma molto sfidante e con grandi risultati per cui un'acquisizione ordini che sfiora i 300 milioni così come ricavi in crescita fino a 250 milioni e buoni risultati di performance. Health Group inoltre ha visto crescere il numero dei propri dipendenti con 170 nuovi ingressi così come è cresciuto l'impegno sul tema della sostenibilità con nuovi obiettivi dell'agenda ONU 2023 perseguiti. Health Group inoltre ha visto crescere il numero dei propri dipendenti con nuovi interventi 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 con Grazie a tutti.